Il campo del Pescara ha squalificato fino al 31 dicembre con 5.000 euro di ammenda. Il DS Matteo Iannascoli squalificato per oltre un anno fino al 30 giugno 2018. Pesante squalifica anche per il presidente Danilo Iannascoli fino al 30 ottobre prossimo. La rissa era stata originata da un pugno sferrato dal giocatore dei Veneti Tobe a Caputo del Pescara ai saluti fair play di fine partita. Altre squalifiche riguardano i calciatori fino al 31 dicembre Borruto, fino al 30 novembre Caputo che aveva ricevuto il pugno e anche Tobe che lo aveva sferrato. Squalifica per due giornate anche per gli allenatori Colini e Ortega. Le motivazioni dei gravi provvedimenti perché alcuni sostenitori sarebbero poi entrati sul terreno di gioco cercando di aggredire l'autore del gesto che veniva comunque colpito da un violento calcio all'addome. Dunque una gravissima condotta antisportiva posta in essere da numerosi tesserati del Pescara. In molti gridano al complotto, ci sono le immagini, tutti hanno visto cosa è realmente accaduto. Il riferimento non è solo ad alcuni gravi errori arbitrali durante la partita. Il Pescara resta in silenzio stampa con grande sdegno per la decisione del giudice sportivo.